Sono quattro le denunce da parte dei carabinieri della compagnia di Arizzo nell'ambito di un servizio di controllo durante le scorse ore per rendere questo periodo di festa ancora più sicuro. Tra i denunciati un cittadino non comunitario senza fissa dimora che approfittando dell'assembramento alle casse in un esercizio commerciale aveva tentato di rubare capi di abbigliamento per circa 200 euro di valore. La refurtiva è stata recuperata e restituita al negozio. Un cittadino non comunitario è stato denunciato per soggiorno illegale nel territorio dello stato italiano ed ubriachezza molesta. Nei guai anche un giovane residente nell'Aretino che aveva già ricevuto un foglio di via obbligatorio per tre anni dal comune di Arezzo è stato invece sorpreso per le vie del centro storico. Infine un automobilista sorpreso alla guida della propria auto con un tasso alcolemico elevato ritirata anche la patente. Cinque le persone multate, una ancora una volta per guida in stato di ebrezza, una per possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente e tre per ubriachezza molesta.